Ma Erode diceva, Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Shalom, fratelli e sorelli in Cristo. Erode rappresenta all'uomo dei tanti vizi, l'uomo che ha scelto la vita facile, il libertino. Eppure anche un uomo del genere davanti all'agire di Dio si ferma un attimo e si pone la domanda, chi è costui? Quindi, quella potrebbe essere un'occasione propizia per l'inizio di una conversione, perché la domanda apre alla ricerca della verità. E la ricerca della verità porta all'incontro con Dio. Per Erode, però, non è stato così. Lui non ha cercato la verità. Ha voluto solo a pagare un altro dei suoi piaceri, una curiosità. Fratelli e sorelle, teniamo bene in mente che l'opera di Dio va sempre avanti. La si può ostacolare con i no. La si può ralentare con le persecuzioni. Ma non la si può fermare, perché Dio è potente ed è amore. E la sua opera è salvare l'uomo. Dunque amarlo ad ogni costo. Preghiamo. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi interamente nella tua carità infinita. E fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre. A te che sei figlio, allo Spirito Santo amore. E a Maria, tu è nostra madre. Amen.